Benvenuti all'annuale video televedita di B.I.U. Ok ragazzi, siamo qui oggi con un nuovo ospite. E perché questo? Perché questo video non è altro che la presentazione della collaborazione più importante dell'anno, ovvero Charlotte e Emma! Ciao ragazzi, ciao Flamingo, non so chi ci stia guardando adesso, ma comunque ciao a tutti. Sì, infatti oggi vi mostreremo alcuni, anzi tutti i prodotti, tutti quanti dal primo all'ultimo, che saranno in collaborazione con B.I.U. e me. Esatto, chiaramente non potevamo scegliere una persona migliore di Charlotte perché è una ragazza super creativa, super colorata, come vedete c'è un'energia che mi fa praticamente i brividi e quindi abbiamo, come il nostro stile di B.I.U., l'abbiamo coinvolta nel realizzare una linea per la scuola. Un po' se seguite B.I.U., se ovviamente seguite Charlotte Anne, l'avete già sentita e l'avete forse anche già vista, però oggi vi parleremo dei dettagli, dei perché. Bene, primo prodotto sia per importanza sia perché è il prodotto Cardine di B.I.U., sei pronta a farlo vedere? Sì! 3, 2, 1, il diario! Eccolo qua! È bellissimo! Cioè, è... Ma certo, è bellissimo! Allora, vogliamo parlare dei colori quanto sono vivaci e quanto sono belli? Parliamone! Esatto! Poi quando io mi immagino già a scuola che starò sfogliando questo diario e mi ricorderò dell'estate, di tutti i momenti belli, della sensiratezza, tutti questi colori veramente bellissimi! Bellissimi! Ma qual è stata l'ispirazione che ci ha portato ad arrivare a questa magia di colori, di questa cover? Oh! Aspetta, andate... Le piume del fenicottero, perché guardate quanto c'è! Allora, ragazzi... No, è una roba assurda! Sono bellissime! Incredissime! Sono davvero, sembrano proprio la chioma del fenicottero! Sembrano vere! Esatto, sembrano vere, ti viene proprio voglia di toccarle! Esatto, esatto! E ha questo riflesso il diario, vedi? Che l'abbiamo preso dalla B.U. Perla, vedi che è un po' tipo perlato, un po'... Che lo impreziosisce molto! Così come tutti i diari B.U. Ovviamente ha la sua cover trasparente e protettiva e gli abbiamo messo, per onorare la collaborazione, questo fantastico adesivo con il mio faccino... Ci assomiglia un po'? Travi una somiglianza? Non so... Non so che... Che è un adesivo che chiaramente potete togliere, l'ho tolto e metterlo dovunque, nel diario o nella vostra camera, dove vi pare. Io lo metterò in questo momento nella copertina, esatto, nella prima pagina e adesso Charlotte ce ne parlerà, perché anche questa è speciale. Sì, perché infatti come potete vedere qua c'è tutto questo tema! Ma che sì, arcobaleno, ma quello non ci interessa, tanto i fenicotteri sono il punto forte. Sì, sono importanti i fenicotteri! Esatto! Salviamo i fenicotteri! Sì, proteggiamo i fenicotteri! Giusto! Esatto! Ma non è finito qui perché c'è una terza cosa che rende il diario B.U. Charlotte 10 unico e irripetibile e sono gli... Stickers! I miei adesivi! Yuhuuu! Allora, sono questi qua. Devo dire che ci ha rotto le palle un sacco per fare questi adesivi che li voleva tutti come da sua idea! Allora, questi qua appunto sono i miei adesivi che diventeranno vostri e... Solo se ho comprato il diario, perché altrimenti rimangono suoi! Esatto, rimangono miei se non lo prendete! Qua abbiamo appunto il fenicottero perché non poteva mancare mai, anzi adesso... Ce ne sono due di fenicotteri, uno grande e uno piccolo! Bene, perfetto, come se non bastasse! Ecco qua, perfetto! Le! Bene! Mi sento molto fenicotterosa in questo momento! Benissimo! Qua invece c'è il fenicottero in miniatura, I Love You, il titolo della mia canzone appunto! E qua c'è il fiocco, cioè è bellissimo il fiocco, è il mio cagnolino, sì! E ci sono anche gli altri stickers superkili, come Dottor Bob, poi aspetta che... Qua ho un problema a cercare, ecco! Dottor Bob, qua ci sono gli slime, qua c'è un gusto... Amici versus nemici! Esatto, tutti quanti! Insomma, ci sono gli sticker di Charlotte, ok? Quindi, ricapitolando, il diario Charlotte ha una copre fantastica con le piume nel fenicottero, ha i fenicotteri sia nella prima pagina che... Nella prima pagina? Sì, che è nella prima pagina! Scusate! E ha gli adesivi personalizzati fatti direttamente da lei. Questo però non è l'unica cosa che abbiamo fatto quest'anno per la Charlotte. No, 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 no! Perché c'è anche almeno altre 1, 2, 3... 3 cose! Sì! 3 cose! Benissimo! Ma vanno le ciance e parliamo del secondo prodotto incredibile che abbiamo fatto con B.U. Charlotte M. Siete pronti a vederlo? Let's go! Pa! Il quaderno! Vabbè, qui c'è meno da dire, perché è un quaderno. Grazie Marco, senza di te non lo sapevamo. È un quaderno che abbiamo fatto con le stesse piume del diario, ok? Il quaderno chiaramente c'è sia con i quadretti, con le righe, con le righe di un tipo, insomma, mille tipi di rigature, ok? In questo momento sia io che Charlotte M. abbiamo il quaderno a quadretti, però, insomma, potete trovarlo di tutte le rigature possibili e immaginabili. Questo è semplice, ne perdiamo troppo tempo perché abbiamo altre due robe devastanti, ma io sto scritto e le faccio raccontare Charlotte. Eccolo qua! La zaino che, cioè, è bellissima, cioè... Allora, ha sempre la solita fantasia rosa, blu, cioè, piume del frenico, top, bellissimo. Qua c'è la scritta Charlotte M, super bella. E poi vogliamo parlare di quanto sia capiente questo zaino. È molto capiente, per portare il peso della scuola, cioè, infinito. Ci sono zip, tasche, tutto e di più. E se avete paura dei vostri amici che vi rubino telefoni, quello che volete... Se lo fanno, cambiate amici, ragazzi miei. Qua c'è una zip segreta, ma scusa, che dovete tenere segreta appunto, perché è segreta, dove potete metterci quello che volete, le cose più... Più private, insomma, perché è evidente che mentre portate questo zaino, quella zip, chiaramente, è impossibile accedervi perché, chiaramente, è protetta dalle vostre spalle. E tutte le zip dello zaino dello Charlotte M sono antiacqua, quindi se piove, e purtroppo in Italia piove... Cioè, attraverso la zip non può passare A. Non è l'unica, l'ultima cosa che abbiamo fatto insieme a Charlotte, perché ce n'è una quarta, ma non ultima per importanza, ed è... L'astuccio! Wow, bellissimo! Anche questo, solita fantasia, piume, tutto quanto. Il logo ovviamente c'è anche qui. Ovviamente. E dentro ovviamente è un classico astuccio che abbiamo appunto in mano, però non è classico perché... C'è Charlotte. No, perché c'è le piume di coppia. Esatto. Che ridere, sono piegata. Quindi non è un classico astuccio, sia perché c'è il logo Charlotte M, ma soprattutto anche perché ci sono le stesse piume che trovate nello zaino, nei quaderni e ovviamente nel fantastico diario. Di questi prodotti qua, non è che ce ne siano tantissimi in giro, eh. I cartolaio sono sempre un po' timidi, ma lo compro, non lo compro, perché noi, come sapete, vendiamo il cartolaio. Il cartolaio deve decidere se comprarlo o non comprarlo. Quindi sappiate che se lo volete, dovete andare a comprare. Esatto, dovete affrettarvi. Ma no, il 15 settembre, che la scuola inizia il 12, dovete andarci prima, perché altrimenti la risposta che vi daranno è... Che ha finito. Io sono qui orgoglioso di aver fatto questo video con Charlotte. Charlotte, grazie mille. Grazie a voi per averci seguito. Grazie. E ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi, ciao. Ciao.